vieni qua col coglionito mio vieni qua che ti faccio fare una cosa bella bella vieni a vedere mamma cosa fanno questi tre schifosi stanno facendo una mucchia ah uno sembra da tutta la cacchillato io mi vieni a vedere che non fanno paura queste sono pitte immagini quando arriva a 4 centimetri che è adesso questa capitana sta sotto in coppia si dobbiamo fare una corsa facciamo un 69 mattina io sono maschia che stai facendo secondo me che se qua scoppi nel tuo microonde il cane che si è passato per quello ah 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 vieni oh ma che vuoi fare basta aggroppare si mi piace tanto tanto oh